Abbiamo fatto un posto di aggiornamento che credo sia stato celebrato nell'obiettivo iniziale la violenza assistiva e il diritto all'infanzia e la rete dei servizi per la tutela della donna e dei bambini nella società moderna. Credo che questo vogliamo fare, abbiamo mantenuto l'impegno didattico ringraziando l'ASL Salerno per averne dato la possibilità. Ringrazio tutti voi per la pazienza, la tolleranza che avete avuto, anche il sacrificio di un'aula insufficiente. Ho fatto una scelta di ampliare la partecipazione, anche immaginando una sorta di rotazione all'interno dell'aula, ma d'altronde non possiamo permetterci altro e siamo qui solo perché c'è una situazione gratuita della provincia. L'ASL ha, essendo soldi pubblici, sta causando dovere di non poter affittare o fittare sale per questi metri.